Tag Heuer Link, l'orologio da polso che unisce eleganza e prestigio. Il Tag Heuer Link è un'icona di stile e tecnologia, che combina design sofisticato e funzionalità avanzate. Il suo design è caratterizzato da una cassa rotonda e da un cinturino a maglie, che gli conferiscono un aspetto elegante e confortevole. Il quadrante, disponibile in diversi colori e finiture, è arricchito da indici e lancette luminescenti, che assicurano una perfetta leggibilità in ogni condizione di luce. La ghiera, presente su alcuni modelli, è decorata con diamanti che aggiungono un tocco di brillantezza. Il Tag Heuer Link è un orologio che si adatta a ogni occasione, sia che tu lo indossi con un abito formale o con un outfit casual. È un orologio che ti fa sentire elegante e sicuro di te, che ti fa apprezzare per il tuo gusto e la tua raffinatezza. All'interno del link batte un movimento svizzero di alta qualità, che garantisce una misurazione precisa del tempo. Il movimento è protetto da una cassa robusta e impermeabile, che resiste agli urti e alla pressione dell'acqua fino a 200 metri di profondità. Il vetro zaffiro antigraffio e antiriflesso assicura una perfetta leggibilità del quadrante in ogni condizione di luce. Il Tag Heuer Link è dotato di diverse funzioni utili per la vita quotidiana. Il cronografo permette di misurare i tempi parziali e totali, con una precisione di un decimo di secondo. La data è visualizzata in una finestrella a ore 3 o a ore 6, a seconda del modello. Il Tag Heuer Link ha fatto un segno indelebile nella cultura moderna, incarnando l'eleganza senza tempo e l'innovazione tecnologica. La sua capacità di unire stile e funzionalità lo ha reso un simbolo di sofisticatezza, attratto da individui che cercano un accessorio che rifletta il loro gusto raffinato. Il suo legame con il mondo dello sport, dell'arte e del cinema lo ha reso famoso e apprezzato in tutto il mondo, sia dal grande pubblico che dagli esperti del settore. Il Tag Heuer Link è un orologio che ha fatto la storia e che continua a farla, grazie alla sua capacità di evolversi e di adattarsi ai cambiamenti della società e delle tendenze. È un orologio che rappresenta il meglio della tradizione orologera svizzera e dell'innovazione tecnologica. È un orologio che esprime la tua personalità e il tuo stile, che ti fa sentire parte di un mondo esclusivo e affascinante, che ti fa vivere l'eleganza e il prestigio al polso. Se sei alla ricerca di un orologio da polso che unisca eleganza e prestigio, il Tag Heuer Link è la scelta perfetta per te.